Si esaltato Signore, l'arco del cielo, non è me Signore, si esaltato e sempre avanzato, io tu, saluto. Benvenuti in questo nuovo tutorial, oggi suoneremo insieme il brano Si esaltato Signore e continuiamo con la Gold Collection 1. Il brano nel libretto dei canti lo troviamo al numero 255 ed è composto sostanzialmente da una prima parte in Fa, dopodiché poi andrà a modulare, quindi alzeremo di una tonalità e passeremo nella tonalità del Sol. Andiamo a vedere gli accordi della prima parte, quindi abbiamo il Fa, dopodiché La minore, Si bemolle, Do. Quindi Fa, La minore, poi abbiamo qui una serie di passaggi, quindi Si bemolle, Do, Si bemolle, Do. Qui abbiamo Re su quarta, che è questo accordo qui, quindi praticamente l'accordo delle Re, il Mignolo andrà a premere sul terzo tasto la prima corda. Re su quarta e Re. Quindi poi abbiamo Sol minore, Re minore, Do, Fa, La minore, Si bemolle, Fa. Quindi Sol minore, Mi bemolle. Il Mi bemolle lo facciamo nella forma del Do, quindi se partiamo da questa posizione, Invece di fare Indice Medio Anulare faremo Medio, Anulare e Mignolo, e lo spostiamo con il Barre sul terzo tasto, questo è il Mi bemolle. Se ci viene difficile possiamo dal Re spostare di un tasto in questo modo il Mi bemolle, suonando soltanto le prime tre corde. Adesso qua Mi bemolle. E quindi poi abbiamo il Fa. Andiamo a vedere l'accompagnamento. Lo schema è Giù, Giù, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù. Allora il tempo è in sei ottavi. Andiamo a farlo quattro volte di seguito. Un, due, tre, Fa. Un, due, tre, e quattro. Andiamo adesso ad eseguirlo alla velocità originale del brano che è 92 BPM. Un, due, tre, Fa. Un, due, tre, e quattro. Un, due, tre, e quattro. Andiamo adesso ad eseguire la prima parte del brano. Quindi in Fa. 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 Fa minore. Si bemolle. Si bemolle. Fa. Fa. Fa minore. Si bemolle. Fa. 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 Mi bemolle. Fa. Fa. Mi bemolle. Fa. andiamo ad ascoltare adesso con con la musica di sottofondo il brano in fa quindi stiamo nell'ultimo accordo della tonalità del fa e passeremo sul sole l'ultimo accordo è le re su squarta e re dopodiché poi avremo sol si minore do re sol si minore passaggio qui do re mi su squarta e mi mi su squarta si fa partendo dal mi mettendo il mignolo sul secondo tasto terza corda quindi la minore sol re sol minore si minore do e sol andiamo quindi a conclude con la minore fa e sol andiamo adesso ad applicare l'accompagnamento con il brano originale di sottofondo più poi Il tutorial è finito qui Spero che vi sia piaciuto Ci vediamo lunedì prossimo alle 14.30 Sui social del rinnovamento nello Spirito Santo Su Facebook e su Youtube Ciao